ciao azzurri ciao gialli oggi ci ritroviamo per il momento storia e la storia che noi mestre abbiamo scelto per voi è questa che si chiama un leone dentro è un po la storia di ognuno di noi perché ognuno di noi ha un topolino leone dentro ma quello che importa non è tanto quanto grossi e grandi siamo ma è il coraggio che abbiamo dentro andiamo a scoprire insieme un leone dentro in un luogo secco e asciutto dove la sabbia luccicava come oro una maestosa roccia piatta si innalzava vecchia e segnata dal tempo e sotto quella roccia in una casetta piccola piccola viveva il più piccolo tranquillo e pacifico topolino marrone era così minuscolo così incredibilmente piccolo che nessuno lo notava mai veniva calpestato in ogni modo e tagliato fuori da ogni cosa era ignorato e dimenticato si la vita del topolino era proprio difficile nel frattempo molto più alto in cima alla roccia le giornate scorrevano diversamente il leone teneva sotto controllo il territorio questa poderosa magnifica creatura faceva continuamente capire ad ognuno quale e quanta fosse la sua importanza come con il suo incredibile era capo del branco era scorbutico e tosto adorava mostrare a tutti di che pasta fosse fatto sì tutti erano impressionati da quel gagliardo regattone se solo pensava al topolino potessi essere un po più come lui una notte nel buio del suo mini lettino si risvegliò di colpo con un'idea geniale in testa uscì dalle coperte sollevando una zampetta ma certo disse devo imparare a ruggire e se questo topino dallo squittio così flebile fosse un po più e un po meno fragile beh sarebbe sempre il più piccolo tra i topini marroncini ma potrebbe farsi degli amici e la sua vita sarebbe migliore sì pensò il topolino devo riuscirci devo imparare a ruggire qui e adesso ma mamma mia c'era un solo animale che poteva insegnarli come fare e quell'animale avrebbe anche potuto fargli la festa era il momento di farsi forza e cogliere l'occasione nonostante tutto sentirsi sempre più piccolo era davvero insopportabile così prese coraggio e pensò in modo positivo si diresse verso la cima sperando di non diventare la cena altrui a pensarci bene era la cosa più spaventosa che potesse fare ma per cambiare le cose doveva prima cambiare se stesso più si arrampicava più si avvicinava al leone addormentato sulla sommità finché mentre si alzava in punta di zampette si ritrovò improvvisamente naso a naso chiedo scusa si svegli signor leone ci sono visite signor leone sono venuto da lei perché lei pensa di potermi insegnare il suo rugito un silenzio improvviso avvolse l'intera pianura il leone aprì gli occhi e gonfiò la criniera il tempo rallentò poi sembrò fermarsi il leone aprì la bocca ed emise un il leone tremava tutto le sue zampe annaspavano nel vuoto indietreggiava incespicando non farmi male piagnucolò si buono incredibile questo leone era terrorizzato dai topi non preoccuparti pigolo il topo sono un amico e non hai nulla da temere facciamo questa cosa insieme ci divertiremo un sacco quello fu un momento speciale il topo non si sentiva assolutamente più piccolo aveva trovato la sua vera voce e l'aveva tirata fuori senza ruggire né urlare da allora in poi i due fecero coppia fissa il topo era sempre molto piccolo ma era molto cresciuto dentro il leone invece ruggiva ruggiva e ruggiva ma sempre con una risata quel giorno avevano imparato che essere grandi e grossi conta davvero poco perché tutti abbiamo un topolino e un leone dentro però Grazie.